ed eccomi qua pronto per una nuova recensione oggi voglio parlarvi del film race for glory audi versus lancia che possiamo trovare nelle sale italiane dal 14 marzo del 2024 il titolo è accattivante se vogliamo sulla falsariga di ford versus ferrari che da noi era arrivato con un altro nome le man 66 la grande sfida di james mangold mi era piaciuto molto trovereste la recensione sul canale voglio subito dire che io non sono un appassionato di corsi automobilistiche né tanto meno del rally non me ne può fregar di meno però sono dell'idea che quando una storia la sai raccontare in un bel film puoi appassionare chiunque anche la persona più distante a tale tema poi dietro la macchina da presa avremmo trovato stefano mordini e questo mi aveva acceso l'interesse perché è un regista italiano sottovalutato per quel che mi riguarda che ha all'attivo diversi film e quelli che ho visto mi sono piaciuti penso che ne so il primo che vidi fu il testimone invisibile ma poi gli infedeli lasciami andare il mio preferito la scuola cattolica divisivo aveva fatto parlare di sé sull'omicidio del circeo era arrivato in italia vietato ai minori di 18 anni questa volta si è spinto verso una coproduzione internazionale italia regno unito per raccontare la rivalità sportiva fra lancia e audi con un cast di attori beh da un lato troviamo riccardo scamarcio che torna a lavorare con mordini dopo diverse pellicole ma anche un daniel briul quindi un cast di tutto rispetto per un film che ahimè mi ha proprio deluso sono andato a vederlo a luci cinemas di campi bisenzio con mio padre di sabato pomeriggio in sala non eravamo molti ma comunque un po di gente c'era il box office non ha esordito male è che non sono riuscito a entrare in sintonia con questa storia i personaggi li ho trovati piattissimi senza una minima caratterizzazione le scene che dovrebbero essere importanti relative alle gare le ho trovate superficiali molto spesso iniziate non portate a termine con la giustificazione del adesso ti mostro l'inserto del video vero dei tempi e quindi così facendo tante volte inizia una corsa ma poi inseriscono filmati d'epoca o comunque poco coinvolgenti che non mi hanno portato a provare mai un minimo di adrenalina di fomento per di più è talmente superficiale anche nella approssimazione di tutti questi personaggi che appaiono sullo schermo e scompaiano e che sembrano pedine di una scacchiera infinita dove la partita resta sempre a metà la pellicola vuol proprio esordire con queste scritte che ci dovrebbero far capire quanto il campionato del mondo di rally dell'83 fosse stato importante eppure io questa rilevanza non l'ho compresa non l'ho percepita non l'ho sentita non che mi aspettassi un film totalmente incentrato sulle corse cioè non sto guardando un fast and furious ci mancherebbe ma nemmeno pensavo di trovarmi di fronte ad una pellicola così piatta ad una pellicola così incapace di andare a fondo a molte delle situazioni che vorrebbe affrontare e che si limita ad accennare quasi spuntando una lista della spesa del tipo ok di questo ne ho parlato ok di questo ne ho parlato ok di questo ne ho parlato sono arrivato all'intervallo e ho detto mamma mia e purtroppo il secondo tempo è pure peggio poi riccardo scamarcio è un attore che apprezzo molto interpreta cesare fiori o personaggio realmente esistente solo che anche qua ho dei problemi quando si ridoppia cioè quando gli attori non doppiatori ridoppiano loro stessi percepisco questa discrepanza ho apprezzato molto la scelta di alessandro borghi di non ridoppiarsi nella serie sky diavoli perché effettivamente si sente la differenza col massimo rispetto questo è un film che è parlato in varie lingue io non riesco a capire perché in dei momenti non abbiano lasciato i sottotitoli visto che si parla in italiano in inglese in tedesco perché non abbiano lasciato sempre i sottotitoli quando i personaggi parlavano in altre lingue invece in alcuni momenti si in altri noi in altri si doppia non ho trovato una linearità ma proprio tutto il film è disomogeneo non ho mai provato un minimo di fomento durante questi momenti che dovrebbero essere importanti per far capire al pubblico anche lo sviluppo di questa gara del mondo dell'83 poi ad un certo punto si vorrebbe parlare anche dei problemi relativi alla poca sicurezza durante queste corse con le persone che muoiono che comunque si fanno del male e dopo aver visto ferrari di michael mann va da sé che il paragone venga spontaneo e quindi beh ragazzi qua è tutto lasciato in superficie è un film che comunque non dura nemmeno poco perché siamo sulle due ore e in queste due ore non mi sono sentito trascinato all'interno di un mondo che non mi rispecchia che non conosco ma che avrei potuto approfondire grazie a questa pellicola proprio perché tutto sembra artefatto tutto sembra girato con molta approssimazione anche il personaggio di daniel briul che dovrebbe essere importante e io non ho percepito la sua rivalità la rivalità fra lui e cesare fiorio riccardo scamarcio anzi daniel briul sembra che in due giorni abbia girato tutte le scene che doveva fare non c'è un minimo sviluppo del personaggio come non c'è sviluppo di nessun altro comprimario succedono delle cose alcune anche gravi e tu spettatore sei disinteressato dice ok e quindi si soffermano su determinate dinamiche tralasciandone altre molto più importanti ma se alla base tu vuoi fare un film sul campionato del mondo di rally dell'83 dicendomi quanto per tutti sia stato importante e poi io non percepisco questa forza questa rilevanza vuol dire che un problema c'è se tu vuoi farmi un film sulla rivalità fra due dirigenti sportivi e questa rivalità non la percepisco cioè non mi bastano le frasi fatte audi in germania è molto più forte molto meglio costruita una tecnologia diversa rispetto alla lancia è un film che è caratterizzato totalmente da frasi di lancio dei trailer no io non posso perdere perdere per noi significa fallimento cioè frasi di questo tipo è per noi la vera sconfitta bla 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 cioè se io stessi guardando che ne so un fast and furious che si basa sull'esagerazione sull'assurdo su queste anche frasi fatte che devo che devono fomentare il pubblico di ragazzini in sala allora anch'io in primis mi diverto ma qua soprattutto da una da uno stefano mordini che fa questo passavanti verso un prodotto internazionale che potrebbero vedere chiunque che potrebbe vedere chiunque all'estero mi aspettavo quel quel qualcosina in più c'è anche la partecipazione di di lapo elkan per dire perché comunque lo sappiamo che scamarcio ha lavorato con ginevra elkan e te l'avevo detto mi è piaciuto anche come film ma anche magari mi era piaciuto poi qua comunque si va incontro anche ad uno sviluppo che leggiamo nelle scritte nell'epilogo dove si rammenta la famiglia agnelli quindi capisco perché abbiano abbiano chiamato lapo elkan però per il resto non mi basta vedere queste panoramiche sui luoghi dove queste macchine da rally sfrecceranno non mi basta qualche frase fatta qua e là il film per di più è anche noioso io amo la lentezza amo lo sviscerare la caratterizzazione umana però non ho mai sentito questo desiderio anche di parlare di un tema importante come quello della sicurezza che mancava è tutto abbozzato è tutto buttato lì si passa da una situazione all'altra in modo pasticciato succedono delle cose il momento dopo sembra che non siano servite a niente per gli sviluppi che prende il film e poi tutto si conclude con una gara che dovrebbe essere rilevante che tutti dimentichi già mentre la vedi perché si ricorre all'inserire il video storico non c'è la voglia di regalare allo spettatore delle situazioni un po più dinamiche fomentanti io mi ricordo anche veloce come il vento vi ricordate in quei momenti o le man 66 tu eri lì e dicevi caspita chissà cosa succede erano film che sapevano dosare soprattutto le man 66 l'aspetto più autoriale quello più commerciale qua invece è tutto buttato lì perché si il film finisce tu vedi quel che succede a determinati personaggi perché come in tanti biopic si scrive quel che faranno poi nella vita insomma e tu almeno io mentre guardavo il finale leggevo quelle scritte diceva aspetta ma questo chi era cioè io proprio facevo fatica a ricordarmi personaggi talmente abbozzati come sono stati come sono stati mostrati cioè boh insomma race for glory audi versus lancia è un film che non riesce a ingranare la marcia diciamo così un vorrei ma non posso stefano mordini mi dispiace che stavolta mi abbia deluso ovviamente gli darò altre possibilità quando tornerà dietro la macchina da presa ma proprio perché sono un suo anche stimatore dico con sincerità quando qualcosa non mi convince è distribuito in italiano da lionsgate fra l'altro fatemi sapere la vostra non c'è bisogno di fare una parte spoiler perché ripeterei tutto quello che ho già detto nella parte generale però anche quando arriviamo a delle scene che dovrebbero essere più tristi drammatiche ce n'è una che è talmente telefonata che te già da dieci minuti dice ok adesso succederà qualcosa di brutto e succede tra personaggi che spariscono che ritornano come se nulla fosse io lì non corro intanto non correndo lì succede una cosa gravissima poi ritorna no 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 tutto a posto e come sempre non conta il cosa conta il come alla base c'era un racconto veramente interessante che avrebbe potuto appassionare anche me che sono totalmente distante da questo mondo eppure c'è tra l'altro questo film negli stati uniti è già uscito da un po il 5 gennaio ma è passato decisamente in sordina qua da noi arriva il 14 marzo sono felice che stefano mordini abbia fatto un film con queste ambizioni molto molto alte rispetto a una pellicola nostrana e basta italiana e basta però niente l'ho proprio trovato veramente brutto e vi chiedo a voi di farmi sapere la vostra nella sezione commenti vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale se deciderete di abbonarvi riceverete in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana è anche attiva la funzione super grazie che vi permetterebbe di mettere in evidenza il vostro commento qua sotto donando per il mio operato su youtube un caro saluto e alla prossima